ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò conoscere un termometro laser della eric il modello eric hill rook 600 sp che costa solo 18 euro che funziona benissimo in un periodo come questo durante il quale stanno aumentando tutte le spese forniture elettriche pellet gas eccetera essere sicuri di quale sia la zona in casa dove ci sono più o meno dispersioni quale parete più o meno fredda se qualche elemento di un termosifone riscalda meno di un altro eccetera ci aiuta anche a risparmiare questo non nasce per questo scopo però prendo la scusa dato che il periodo è quello che è tristemente noto purtroppo siamo in queste circostanze allora una spesa così piccola come 18 euro per un termometro di questo tipo spero di ottenere anche un codice di sconto può essere utile per diverse situazioni vediamo quindi come si utilizza vediamo qual è il suo funzionamento quali sono le varie caratteristiche che lo contraddistinguono faremo la prova anche con una termocamera ho già fatto delle prove corrisponde perfettamente e valutiamo la siena iniziamo questa è la confezione con cui viene venduta all'interno troviamo questa fondina che al suo interno a sua volta a questa pistola questo termometro laser vediamo la fondina quindi si apre con il velcro all'interno si ripone semplicemente in questo modo e nella parte posteriore troviamo questo passante per poterla fissare nella cintura del pantalone ovviamente accompagnate da manuele di istruzioni scritto anche in italiano e da due batterie mini stilo che vanno inserite nell'impugnatura aprendo questa parte si inserisce una in un verso e una nell'altro verso si richiude questa parte e al click rimane assicurata per poter accendere il display quindi mettere in funzione il termometro sarà necessario premere questo tastino come vedete se è acceso e ci permette di rilevare già da subito la misurazione piccolo particolare da questa parte è riportato il rapporto di misura del cono che viene emesso non è visibile come in alcune pistoline che mettono un cerchio più il punto centrale che ci fa capire quanto sta coprendo come misurazione in questo caso è riportato semplicemente al rapporto e poi sul manuale di istruzioni sono riportati alcuni esempi in quest'altro lato invece troviamo il range di misurazioni quindi da meno 50 fino a 600 gradi misurabile sia in gradi celsius che in gradi fahrenheit guardando la parte frontale troviamo il sensore per rilevare la temperatura e questo che è il punto da cui viene emesso il laser come vedete viene emesso solo un punto laser ci serve semplicemente come mirino possiamo utilizzare semplicemente l'allineamento tra questa parte e questo mirino come se fosse una pistola per capirci ma col puntino laser sicuramente è più veloce adesso guardiamo rapidamente pure il display e la funzione di questi tre tasti allora premendo il tastino mod possiamo cambiare alcune voci e alcune impostazioni per esempio prendono una volta andremo su max che ci permette di vedere qual è la temperatura massima letta premendolo nuovamente invece vedremo qual è la temperatura minima in questo caso avendo preso solo una misurazione rimarrà fermo su 29 gradi ma se io eseguo un'altra lettura sempre sul bancone poi mi sposto sulla mia mano ovviamente alla temperatura cambierà e in questo caso andando di nuovo sul mod avremo la temperatura massima di 34 gradi e la temperatura minima di 29 gradi continuando avremo atti che ci permette di leggere la temperatura ambientale sinceramente non ho capito bene come funziona però in questo caso ci darà la temperatura di questo ambiente io un termometro alla mia sinistra che mi indica 28 gradi come temperatura ambientale quindi diciamo su per giù è allineato devo capire esattamente se va puntato in aria su una superficie insomma non so bene come funzioni però 0 3 gradi come tolleranza va benissimo ma continuiamo a guardarlo come avete visto il display si è spento quindi dopo pochi secondi di inutilizzo si spegne per risparmiare le batterie andiamo ancora avanti sul meno e abbiamo la possibilità quindi di regolare ms quindi l'emissione della radianza ogni materiale emette una radianza differente siccome il termometro si basa su questa radianza per dirci quale temperatura abbiamo dobbiamo impostarla leggendo ciò che c'è scritto sul libretto di istruzioni ma questa impostazione si trova anche su internet quindi per esempio per l'alluminio e 30 per il ferro e 70 eccetera adesso lo imposto sul 95 perché diciamo che 95 va bene per la maggior parte delle misurazioni non per tutte ma per la maggior parte questo invece cal serve a calibrare il nostro termometro non è cosa in cui sappiamo che una superficie a una misura ben precisa e misurandola magari ci dà qualche piccolo errore allora possiamo tararlo tramite questi due tastini andando ancora avanti abbiamo ai che la temperatura massima come il range che vogliamo misurare oltre la quale nel caso in cui stiamo prendendo una misurazione eventualmente verremmo avvisati con un allarme è la stessa cosa si può fare con la temperatura minima quindi in questo caso meno 20 se volessi cambiarla potrei metterla a meno 13 meno 12 quello che voglio io e andiamo ancora avanti ritorniamo sul meno che abbiamo visto poco fa in alto a sinistra abbiamo anche la scritta old quindi memorizza la temperatura che viene letta in questo caso 29 gradi e 2 se io premo sulla mia mano 39 gradi e 3 vengono memorizzati sul display quindi la scritta old sta ad indicare che questa misura è semplicemente impressa sul display e non fa parte della misurazione se lo stiamo puntando contro una superficie ma questi due tastini quando non siamo all'interno del menu servono a cambiare l'unità di misura come vedete qua sulla destra cambia da f a c e viceversa ovviamente cambia anche il numero riportato del display perché la scala è differente e questo invece serve per spegnere ed accendere il laser in questo caso il laser si accende come poco fa se io lo premo si spegne l'icona rappresentante è il laser e avremo la nostra lettura della temperatura ma senza l'emissione del puntino laser e questa modalità va utilizzata quando si usa il termometro su superfici riflettenti perché il laser potrebbe riflettersi e colpire i nostri occhi oppure nel caso in cui si lavora dove c'è gente c'è il rischio di colpire sugli occhi qualcuno allora abbiamo la possibilità di attivarlo o disattivarlo ora diamo un'occhiata rapida al manuale di istruzioni che è scritto in italiano in modo molto comprensibile questa è la descrizione del display come ho detto poco fa la modalità di utilizzo e poi nell'altra pagina troviamo il rapporto in base alla distanza in questa immagine abbiamo un rapporto per quanto riguarda la distanza e di diametro e anche come comportarsi in base alla dimensione dell'oggetto da utilizzare perché se noi stiamo prendendo la temperatura di un oggetto molto piccolo ma lo misuriamo a distanza ovviamente rientrano nel cono della misurazione anche ciò che c'è sullo spondo quindi stiamo misurando una bottiglia di acqua che è posizionata davanti ad un forno colpiremmo anche il forno e quindi di conseguenza avremmo la temperatura dell'interno del forno e non della bottiglia d'acqua e qua ci viene riportata la dimensione quindi ad una distanza di 15 cm avremo un diametro di 12 cm e 7 così fino ad arrivare ad un metro e 20 di distanza che avremo un metro di diametro per quanto riguarda il cerchio sarebbe stato effettivamente molto più comodo avere il cerchietto proiettato ma con questa cifra per utilizzarlo all'interno di un laboratorio quindi misurare delle superfici di piccole dimensioni anche senza l'utilizzo del laser si può fare senza alcun problema quindi per esempio un utensile se stasso riscaldando oppure se vogliamo misurare dei termosifoni e vedere quale elemento più o meno caldo rispetto all'altro anche senza il puntatore laser si può fare benissimo oppure anche utilizzando il puntatore laser da vicino anche se non abbiamo il cerchietto comunque capiamo che a questa distanza sicuramente avremo un cerchietto molto piccolo e rientrere perfettamente su quell'elemento per quanto riguarda l'emissività quindi la radianza da impostare tramite il comando ms come dicevo per l'alluminio bisogna impostare 30 invece per quanto riguarda il ferro bisogna impostare 70 facciamo subito una prova facendo un confronto con la termocamera misurando una sega impostiamo sul termometro della eric il della radianza quindi ok impostato su 70 adesso facciamo la stessa cosa con la termocamera tra l'altro questo telefono dotato di termocamera velo già recensito vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione sia per poterlo comprare se vi piace che per vedere la recensione perché un prodotto davvero molto interessante testato con strumenti professionali corrisponde perfettamente e allora utilizziamo quindi questa termocamera anche su questa dovrò impostare gli stessi parametri per poter misurare il ferro su questa addirittura posso impostare pure la temperatura ambientale come abbiamo detto 28 gradi adesso il termometro ambientale mi si è impostato sul 28 e 1 bisogna impostare anche la distanza alla quale si esegue la misurazione quindi ok quindi abbiamo sia la nostra termocamera che il nostro termometro impostati allo stesso modo vediamo quanto indicano come misura di questa superficie in metallo allora ho impostato il colore grigio perché i numeri sono scritti in rosso e quindi con la tonalità rossa non si vedeva nulla come vedete abbiamo una temperatura che oscilla fra 29 e 30 gradi in questo punto è anche il nostro termometro sullo stessa zona indica 30 gradi anche lui oscilla 30 gradi 30 gradi il termometro invece indica 29 7 29 9 30 gradi quindi sono praticamente quasi allineati stiamo misurando la stessa superficie e abbiamo la stessa misurazione quindi con 18 euro possiamo avere le stesse prestazioni di una termocamera che costa 7 800 euro devo dire effettivamente è molto attendibile almeno per questa prova che abbiamo fatto e soprattutto avendo impostato una emissività diversa da quella pre impostata di fabbrica quindi corrisponde anche in base alle impostazioni per correttezza vi faccio vedere che anche misurando il centro della mia mano indica una temperatura che va oscillando diciamo che al centro esatto comunque abbiamo 35 gradi la stessa temperatura che poco fa avevamo con questo termometro quindi riusciamo ad avere ovviamente spostandolo in base alla zona ecco nello stesso punto abbiamo 35 gradi a 7 poi spostandoci in base se la mano è stata appoggiata abbiamo avuto pugno chiuso e che eccetera ovviamente alla temperatura va cambiando comunque la temperatura rispetta perfettamente quella della termocamera un piccolo termometro economico che ci permette di avere una lettura di misurazione delle superfici eccetera molto comodo da utilizzare sia all'interno del laboratorio in ambito domestico in cucina e meccanica giornali termometri tra rossi possono essere utilissimi in diverse circostanze allora ragazzi ho ripristinato l'emissività l'ho messa a 95 ho impostato anche la temperatura massima 33 la temperatura minima a 29 gradi adesso eseguendo delle misurazioni dovrei avere un allarme nel caso in cui l'oggetto misurato la superficie misurata dovesse avere una temperatura inferiore ai 29 gradi ma anche quando la temperatura sarà superiore ai 33 quindi misurando questo bancone abbiamo 29 gradi esatti poco fa me ne dovevo ricordare che era 29 se io misuro la mia mano abbiamo la temperatura superiore ai 33 quindi scatta l'allarme c'è questo suono che ci avvisa che abbiamo superato la temperatura e anche sul display spunta la scritta hai quindi temperatura troppo alta proviamo a spostare qualcosa ok in questo caso abbiamo 28 gradi e 8 e quindi anche in questo caso ci avvisa con lo che la temperatura è più bassa di quella impostata immaginate proprio nell'esempio del termosifone per la ricerca dell'elemento più freddo più caldo di impostare l'allarme quindi non siamo costretti a guardare attentamente il display ma semplicemente quando ne andiamo sotto una soglia oppure la superiamo veniamo avvisati tramite questo gicalino e tramite il display tra l'altro anche la funzione di lettura continua quindi spostandoci da un punto un altro mentre stiamo seguendo una lettura la temperatura va cambiando e ci riporta alla temperatura esatta del punto in cui è puntato il nostro laser come mirino quindi se fosse per esempio un termosifone volessimo vedere la temperatura di uno o di un altro elemento basterebbe spostarci per vedere quale di questi elementi per esempio non funziona bene oppure all'interno di un vano motore di un'automobile potremmo vedere per esempio una temperatura che va aumentando di un radiatore eccetera o se si tratta per esempio anche di impianti elettrici possiamo tenere sotto controllo per esempio un quadro per il quale sospettiamo che stia superando una certa temperatura eccetera è utilizzato sempre da vicino possiamo passare da una zona ad un'altra vedendo quale zona dello stesso ambiente insomma più o meno calda più o meno fredda non dobbiamo puntarle a fare diverse temperature ad ogni volta ma la lettura continuativa in questo modo ci dà la possibilità di utilizzarlo in modo rapido e preciso allora facciamo una prova adesso con il frigo quindi accendiamolo l'ho rimpostato su 95 come radianza e abbiamo quindi 17 gradi 15 gradi 9 gradi 11 gradi come vedete va cambiando 13 14 ovviamente perché sono materiali differenti addirittura questo 21 gradi quindi c'è un abisso perché cambia la radianza e quindi nel caso in cui dovete fare alcune misurazioni è necessario impostarlo correttamente ma noi prendiamo come riferimento per esempio questa bottiglia del latte che in frigo indica 18 gradi e mezzo e ora facciamo il confronto utilizzando la termocamera anche la termocamera come vedete indica una temperatura di 18 gradi come aveva fatto il termometro della eric il quindi come vedete spostandoci anche questo impazzisce e va dando misure differenti che effettivamente se non si regola la radianza potrebbero farci credere che il nostro frigo per esempio qualche malfunzionamento quindi ragazzi un piccolo termometro digitale comodo con una lettura semplicissima sul display che ci permette di vedere quali eventualmente sono gli elementi che non funzionano oppure di vedere in ambito di meccanica quale parte di motore sta riscaldando più di un'altra se un oggetto in funzione sta superando una determinata temperatura eccetera eccetera molto comodo pratico piccolo costa pochissimo 18 euro io ho deciso di fare questa recensione proprio perché avendolo testato sono rimasto sbalordito della sua precisione se ne utilizzate due però ripeto su questa fascia di prezzo è fatto una misurazione possibilmente uno indica 30 gradi l'altro indica trenta e mezzo non stiamo misurando la febbra dove un grado potrebbe creare davvero problemi e chi ha bisogno di strumenti di elevata precisione sicuramente non va a comprare un oggettino di questo tipo questo va bene in ambito hobbistico domestico cucina tutte le altre situazioni come ho detto poco fa nelle quali un grado non va a cambiare nulla ragazzi detto questo non mi rimane che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale vi ricordo che vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione sperando di associarlo anche ad un codice di sconto mettete anche il segno di spunta sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto